Le carpette dello stesso colore che si aprono e vengono sfogliate contemporaneamente, le voci dei soprani e contralti che si intrecciano con quelle dei bassi e tenori, l'ordine, il rigore, la concentrazione, l'attenzione verso ogni minimo movimento del direttore e il silenzio intervallato dal suono armonioso, questi dettagli che hanno potuto apprezzare coloro i quali hanno preso parte alla serata finale della manifestazione musica a palazzo. Con la chiusura del Festival Nisseno si chiude il sipario sull'edizione del 2021 del Sicily Tour Festival, un evento nato grazie ad un progetto dell'Enchorus Federation che ha tenuto anche un finanziamento dal Ministero della Cultura e che ha coinvolto diversi comuni siciliani, tra cui anche la cittadina nissena. Siamo molto contenti di questa prima edizione di Musica a Palazzo, il festival che ha visto in qualche modo impegnate molte maestranze e molti artisti del territorio nisseno. Lo abbiamo organizzato con grande gioia e con grande impegno. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato e che hanno permesso in qualche modo la realizzazione dell'evento ancora prima delle giornate previste. Tutta la macchina in Sicily Tour Festival che ha visto sette tappe in tutta la Sicilia e la vostra ultima tappa, appunto Musica a Palazzo, è stata in qualche modo il frutto di un lavoro lungo, costante, che ha visto coinvolte numerose maestranze, numerose professioni che in qualche modo hanno cercato di collaborare e di creare qualcosa di bello per i propri territori, per in qualche modo la validizzazione anche del patrimonio artistico e culturale. E in nostro caso anche il patrimonio storico, visto che abbiamo in qualche modo cercato di mettere, di far luce sul compositore Gian Domenico Martoretta, che appunto operava presso la corte di Moncada nel XVI secolo, ma è stato anche un modo speciale per poter dare luce e voce ai compositori del nostro territorio che oggi scrivono e lavorano per fare musica per le nuove generazioni. Per me è stato un onore, è stato un onore anche coinvolgere le corali del nostro territorio, pur non essendo parte della federazione INCORUS abbiamo cercato il più possibile di coinvolgerle e di mantenere comunque sempre la sicurezza alta. Il nostro obiettivo è quello di far qualcosa di bello insieme, da soli non si va da nessuna parte. INCORUS ha come obiettivo quello di fare rete, di creare amicizie, di supportare le piccole realtà per far sì che ci possa essere una grande progettualità insieme.